Il 25 gennaio 1960 sono partita per Roma. Una cosa che mai in 50 anni li ho fatti, sono entrata nel 1960, non mi è mai venuto in mente un sentimento di dire ma perché ho certo le fine della chiesa? Ha trasformato la mia vita, sono felicissima, anche se dobbiamo dire che non è stato sempre semplice, che le difficoltà le abbiamo avute, qualche sofferenza c'è stata, ma tanta gioia di amare, far conoscere e vivere i momenti della chiesa è la mia felicità. Grazie. Grazie.